L'amministrazione comunale di Capaccio ha disposto il divito di circolazione di sosta per tutte le categorie di veicoli nel tratto stradale di via Tempe, a partire dall'intersezione con via Costabile Carducci fino all'altezza dell'ingresso del parcheggio comunale sottostante i giardini pubblici. Tale provvedimento è stato preso, tenuto conto delle caratteristiche strutturali della strada per garantire il libero transito dei pedoni. Il parcheggio sottostante i giardini pubblici, ricorda il Comune, può essere raggiunto percorrendo la bretella comunale denominata via Michele Marino.